E' stato pubblicato in gazzetta ufficiale il bando di gara per il recupero e la trasformazione dei 9.000 metri quadrati di superficie del complesso di San Domenico a San Gimignano, convento fino al 1787 e poi carcere fino al 1995. Il bando in project financing per la ricerca di un partner privato presentato da Regione Toscana e Comune di San Gimignano, proprietari della struttura, prevede per il concessionario un impegno di 59 milioni di euro con ritorni stimati di 200 milioni di euro nei 70 anni di durata della concessione. Noi stiamo cercando adesso, dopo aver lavorato in maniera molto approfondita e anche con una grande spirito di collaborazione con l'Agenzia del Demanio, con il Bibact, con la sovrintendenza ABAP di Siera, Arezzo e Grosseto, bene, noi abbiamo costruito un progetto che mette dei paletti, ma apre a tantissime possibilità. Nel complesso di San Domenico, che rappresenta il 10% del tessuto edilizio del Centro Storico di San Gimignano, patrimonio UNESCO dal 1990, saranno realizzati una struttura ricettiva, musei, sale espositive, sale conferenze e percorsi per valorizzare il patrimonio archeologico e paesaggistico. C'è un insieme di esperienze, tutte ricondotte al filo rosso della cultura, della tradizione e delle identità dei luoghi, che diano al cittadino e al turista un'occasione straordinaria per allungare la propria visita nella nostra città. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 31 maggio, poi inizierà il restauro, i cui tempi sono stimati in quattro anni. Grazie.